e io invito il professor Gabriele Balbi ad andare al pulpito per parlarci dei miti della Silicon Valley e la parola mito è una parola molto interessante che ho visto con piacere in una slide in anteprima e approfondito andando a consultare il Battaglia, quel grande dizionario storico della lingua italiana enorme, 21 volumi enormi, che adesso però si può consultare gratuitamente in linea una miniera straordinaria e tu ne hai approfittato a piene mani in questo caso per la parola mito. Prego Gabriele. Grazie, grazie Alessio, grazie a tutte le presenti, a tutti i presenti, è sempre un piacere appunto far parte del Moebius e essere anche qua. Ringrazio anche Gino a distanza perché tutta la prima slide mi evita di farla perché sostanzialmente siccome come deformazione professionale appunto sono storico della comunicazione, quando ci siamo detti parliamo di Silicon Valley ho pensato di definire cosa fosse la Silicon Valley, di fare una breve storia ma mi pare che sostanzialmente Gino abbia toccato tutti i punti principali, vi facevo un po' la storia di quali erano i settori più importanti nel corso del tempo che nel luogo in cui oggi si trova la Silicon Valley si sono succeduti, l'agricoltura, microelettroniche, superconduttori, poi la biofarmacologia, poi i dot com, specie a partire dagli anni 90 fino appunto alle cosiddette GAFA, cioè le quattro grandi piattaforme e questo acronimo le mette tutte quante assieme che voi conoscete naturalmente benissimo. Vado anche molto veloce, grazie a Gino, in relazione alla seconda parte le multiformi basi ideologico-culturali, Gino ha detto precedentemente voi dovete usare la parola cultura e non cultura della Silicon Valley, sono perfettamente d'accordo che ho usato appunto multiforme basi ideologico-culturali che vanno, ci sono università, quindi ricerca scientifica, ci sono finanziamenti pubblici ed economia liberista, come è stato detto, anche di destra, incrociati con ideologia della controcultura, IP e H, l'abbiamo già detto, incrociate con le droghe, siamo evidentemente sul tema dell'LSD oggi, non so che piega prenderà questo incontro, il viaggio mette in relazione, quanto è stato detto anche prima, l'LSD come metodo di viaggio ma il cyberspazio come un viaggio alternativo verso un futuro. Ecco da qui deriva deriva un'ideologia diciamo della Silicon Valley, viene così definita in alcune pubblicazioni, l'intervento mio di oggi è, come diceva Alessio in apertura, sui miti della Silicon Valley in particolare relativamente al mondo del lavoro, oggi è il tema che vogliamo discutere e come veniva accennato dal mitico, aggiungiamo, dizionario battaglia, ho preso alcune definizioni del termine mito. Che cosa sono i miti? Perché prima abbiamo definito Silicon Valley, abbiamo cercato di ricostruirne un po' la storia, ora cerchiamo di capire cosa vuol dire fare e cercare di scoprire i miti della Silicon Valley. I miti sono molte cose, ci dice questo dizionario, leggo in particolare le parti in rosso per brevità, eroi, antenati, mostri, animali, con il bisogno, trovare un mito tende il bisogno di fornire una spiegazione a fenomeni naturali, a dare una legittimazione a pratiche culturali e a strutture sociali. Quindi attraverso un mito, i miti possono appunto essere eroi, divinità, antenati, mostri o animali, nella Silicon Valley ci sono molte divinità e Steve Jobs sicuramente, forse una delle rappresentazioni massime delle divinità della Silicon Valley, ma il trovare, il cercare un mito è anche appunto questa tendenza a legittimare cose che facciamo nella società, a legittimare delle pratiche che tutti i giorni compiamo. Toccare 2500 volte lo schermo di uno smartphone in una giornata è una pratica che coinvolge, questa è una media dei paesi europei, coinvolge molti di noi, per arrivare a toccare 2500 volte uno schermo evidentemente ci devono essere delle pratiche culturali, tollerate, tollerabili, abbiamo dovuto imparare qualcosa nel corso di questi decenni. Per estensione il mito è anche una idealizzazione, dice il Battaglia, assume caratteri di eccellenza leggendare o di eccezionalità, che esercita un notevole fascino, un modello esemplare. E se c'è una cosa che la Silicon Valley è stata per decine, migliaia di imprenditori negli ultimi vent'anni è stato un modello esemplare, adatto dei modelli che devono essere seguiti, in particolare torno su questa idea dei modelli per quanto riguarda il mercato del lavoro e quindi i modelli che ci propone la Silicon Valley. Terza accezione, il mito come balla. Dice no ma quello è un mito, lascia perdere, no? È una cosa che non è vera sostanzialmente. Concetto, idea che non corrisponde alla realtà, che è un desiderio, speranza, qualcosa di utopico, un sogno che non si realizzerà. E questa è un'altra dimensione che sta sempre nel concetto di mito, qualcosa che non si realizza, qualcosa che non è vero, qualcosa di esagerato. La quarta è molto simile, immaginazione, insomma dice un'opinione che appare frutto dell'immaginazione di un distorcimento della realtà, fantasia, fantasticheria. C'è tutto questo dentro se noi ragioniamo sui miti che la Silicon Valley ci sta proponendo e ci ha proposto negli ultimi vent'anni, che penso, sto scrivendo un libro in materia, siano i miti e le ideologie più importanti della nostra società contemporanea degli ultimi decenni. Quelli che ci hanno anche guidato nei modi di comportarci, di vivere, di stare al mondo. Ci sono molti esempi, ne accenno qui alcuni per dirvi che alcuni dei miti che affronto in relazione al lavoro sono solo una parte. Sicuramente, qui ho un po' esagerato, facendo una metafora anche religiosa, ma la Silicon Valley ci dice che la digitalizzazione è il tuo Dio, il digitale è tutto, il digitale nel futuro. Nessuno, se avete notato, mette in forza il fatto che non bisogna digitalizzare. Tutti vogliono digitalizzare, tutti i governi del mondo, è segno di progresso e le gaffa a cui ho scritto sono i tuoi profetti, nel senso queste piattaforme come un po' profetti. Nessuno mette in dubbio che la digitalizzazione sia una rivoluzione e raccogliendo, è proprio questo il tema del libro su cui sto lavorando, raccogliendo le ideologie delle grandi rivoluzioni politiche o economiche o delle grandi rivoluzioni religiose del passato, la rivoluzione digitale incarna questo mito di continua trasformazione, continuo sguardo rivolto verso il futuro. La digitalizzazione poi indica la via da seguire attraverso alcune figure, alcuni CEO aziendali ed ecco qui la figura mitica di alcuni, alcuni sono stati già citati, forse Elon Musk non è ancora stato citato, un uomo che decide di spedire un'automobile nello spazio con un razzo, incarna quasi il modello mitico, un mito forse un po' anni 60, anni 70, però fa qualcosa di straordinario, compie qualcosa di straordinario. La digitalizzazione risolve anche molti problemi, ci si dice della società contemporanea, se arriva internet, arriva la democrazia, grazie alla digitalizzazione le disuguaglianze verranno eliminate, eccetera. Queste sono le vere e proprie balle, perdonatemi, nel senso che è l'accezione di mito come qualcosa che non si realizza. Internet non porta alla democrazia, come al solito le tecnologie hanno diverse modalità di utilizzo, non è vero che c'è una maggiore uguaglianza sociale grazie a internet, anzi alcuni sociologi parlano di digital divide, cioè di una ancora maggiore crescita delle differenze sociali dal momento che alcune persone riescono a connettersi a internet, altre no, quindi aumenta addirittura i divari sociali. Ma oggi siamo al mondo del lavoro e il mondo del lavoro ho tentato di presentarvi quali siano i miti o le mitologie del mondo del lavoro che la Silicon Valley ci presenta attraverso alcuni motti. Tra alcune narrative, questa mattina è stata usata più volte da Luca De Biase, la parola narrative e quindi torno a usarla anch'io. La Silicon Valley, tra le tante modalità di narrarsi, ha quella di inventare termini nuovi che sono quasi tutti in inglese e quindi questa è un'altra forma di questa ideologia. Ad esempio sicuramente nuove forme di economia, qui vengono messe alcune, l'economia circolare, collaborativa, la gig economy non traducibile, sharing, trust economy, uberization, tutti i termini con cui sono state definite le nuove economie che ci vengono proposte dalla digitalizzazione, con un misto di quello che viene detto neocapitalismo, quindi un capitalismo ancora più spinto, piattaforme che hanno al centro, che sono al centro di questo processo e volontarismo, è già stato detto questa mattina, cioè noi volontariamente lavoriamo per queste piattaforme mettendo foto, postando i nostri pensieri e questo lavoriamo gratuitamente diciamo. Secondo serie di motti che mi sembrano importanti per costruire questa mitologia del lavoro sono quelle relativi ai nuovi imprenditori. do it yourself, take your risks, be creative, stay angry, stay foolish, il crew neck capitalism, il capitalismo del giro collo, il maglione giro collo in italiano diciamo così. Ecco sono tutti i modi di definire nuovi imprenditori che devono appunto rischiare, quindi liberismo, devono fare self branding, devono essere un po' pazzerelli, stay angry, stay foolish, appunto forse uno dei più famosi Steve Jobs in un discorso appunto lo mette in forma. devono non avere giacca e cravatta ma bisogna avere maglione e giro collo perché è un capitalismo, un'imprenditoria informale che nasce nei garage. Molte delle compagnie della Silicon Valley nascono all'interno dei garage, quindi c'è il mito del garage anche in qualche modo. Le nuove imprese devono essere buoni datori di lavoro, in particolare Google e Facebook nelle proprie pagine web lo mettono in luce, ci fanno lavorare in ambienti confortevoli, e qui vi ho messo una carrellata, bellissimo, Apple Park a Cupertino, Facebook che dà da mangiare i suoi dipendenti tutto il giorno, quindi possono fare anche fino a 5 pasti tutto il giorno, quindi possono fare anche fino a 5 pasti, si può mangiare quello che si vuole. Il calcio balilla, onnipresente nella narrativa, diciamo, del bel posto di lavoro della Silicon Valley, oppure quando si entra ad Amazon, work hard, have fun, make history addirittura. Lavora tanto, diverti, parte di una storia. Non vedo l'unica cosa al tempo, perché c'è questo signore davanti. Ecco, ok, grazie, perché è da mia davanti, allora adesso ci sono. L'altro modello interessante è il modello startup. Una delle, direi, non messa in forza ideologie della Silicon Valley è il fatto che le aziende debbano nascere e crescere lentamente, ma debbano essere anche anzitutto aziende in cui si viaggia leggeri, questa è un'altra, l'unica traducibile forse in italiano tra le tante, degli slogan della Silicon Valley. Le società devono essere temporanee, business innovativi e dirompenti, disruptive, un'altra parola ossessivamente utilizzata, è questa appunto dell'essere dirompenti. L'obiettivo questo è farsi acquistare da altre società, ma volevo mettere l'accento sul secondo motto, fail fast and fail often. Cioè, nell'ideologia e nella, diciamo, costruzione della mitologia del lavoro della Silicon Valley, c'è l'idea che bisogna fallire. Un buon imprenditore fallito almeno una volta nella sua vita perché aveva un'idea talmente innovativa che non è stata capita dagli altri. Quindi portare il fallimento a, appunto, ideologia, fino a quelle che vengono ancora organizzate oggi, le fuck up nights, cioè serate in cui si ritrovano tanta gente che è fallita nel corso del tempo e si raccontano la loro storia. I nuovi lavoratori che fanno parte di questi, della Silicon Valley, devono, sono chiamati in tanti modi, vedete, no? Anche delle intersezioni tra vari termini. Entra employee, quindi impiegato, ma anche entrepreneur, per esempio. Ancora una volta il termine flessibilità, l'essere imprenditore di se stessi e l'essere amanti del rischio. Quindi qui ho cercato di mettervi in luce, ho 15 minuti, quindi sono andato abbastanza velocemente, quali fossero alcuni dei motti centrali della Silicon Valley in termini di lavoro. Ma ora vi rigiro uno sguardo critico. Io sono un noioso docente universitario e penso che la critica sia l'elemento fondamentale, quello che noi dobbiamo fare. Che cosa mettono in luce queste nuove ideologie della Silicon Valley? Mettono in luce, anzitutto, nuove forme di economia, quelle che vi ho citato prima, nascondono molto, troppo spesso, nuove forme di sfruttamento. Sfruttamento nei confronti del lavoratore, arriverò ad alcuni esempi. Sfruttamento anche del tempo dei lavoratori, non c'è quel bilanciamento giusto tra lavoro e tempo di riposo. I nuovi imprenditori appunto sono impiegati, si dice il modello 966, 996, scusate ho sbagliato qui, dai 9 del mattino ai 9 di sera per 6 giorni a settimana. Questo è un classico modello, fa la pari anche con la cultura del materasso, cioè è meglio portarsi il materasso in ufficio, che almeno ogni tanto si può riposare, ma in realtà la logica negativa è quella, beh, almeno dormi anche in ufficio, è inutile che vai a casa. Stai qui con noi 24 ore su 24. Quindi porta uno sbilanciamento nel tempo di lavoro e di riposo. Porta una pressione sociale molto forte sugli imprenditori. Molti degli imprenditori da Silicon Valley riportano informazioni secondo cui viene chiesto continuamente ma quando diventerai ricco, quando diventerai ricco? Una pressione sociale, se tu sei in Silicon Valley devi diventare ricco prima o poi, quando succederà? Imprenditori che a volte sognano di essere dipendenti perché è appunto la pressione e la competizione così ampia che sognano tutto questo. Poi naturalmente il modello start-up porta anche, con un approccio critico, ad altre conseguenze il lavoro H24. Ora vi riporto il motto di quella che è la Silicon Valley cinese. La Cina ha tentato di ricostruire la Silicon Valley con alterne fortune in questo quartiere di Pechino. Niente sonno, niente sesso, niente vita. Il motto di questo centro cinese è in cui ci sono anche forme di sessismo. Non è vero che il bilanciamento tra generi è così forte. Molto spesso molti dei lavoratori nelle grandi aziende digitali sono maschi e molto spesso nelle posizioni più importanti sono maschi. Porta a sfruttamento dei propri dipendenti. Qui volevo quasi chiudere mostrandovi una rete per suicidi che un'azienda cinese che assembla prodotti per l'Apple ha dovuto installare. I lavoratori di questa azienda, lavorando più di 12 ore al giorno, molti di questi lavoratori si suicidavano. E quindi questa azienda ha dovuto installare una rete antisuicidio. Si suicidavano andando semplicemente sul tetto dell'azienda e buttandosi giù. L'azienda ha dovuto installare questa rete antisuicidi. Per dire appunto quanto dell'ideologia di un lavoro confortevole non sia poi tale. Ci sono naturalmente dei costi economici e sociali del fallimento. E quindi il modello fail fast fail off non è sempre un modello positivo. E per i nuovi lavoratori naturalmente una parola chiave da un lato la possiamo dire come flessibilità. L'abbiamo citata prima un paio di volte. Possiamo anche leggerla come precariato, grande forme di precariato. Lavori di basso consumo intellettuale. Ce n'ha parlato Luca De Biase prima. Gli etichettatori che appunto per pochi centesimi dicono quello è un cane, quello è un uomo. E che a volte vengono anche pagati non pochi centesimi ma in buoni Amazon. Quindi direttamente diciamo in qualche modo vengono pagati attraverso prodotti della Silicon Valley stessa. Con salari bassi e sfruttamento. Ecco un secondo per chiudere. Il secondo è, volevo cercare di mostrarvi in 15 minuti, forse 16 a questo punto, è quanto all'interno della Silicon Valley siano state create in maniera diciamo evidente o meno evidente alcune mitologie anche nel mondo del lavoro che noi ci portiamo dietro. Alcune di queste mitologie evidentemente hanno modificato l'idea che noi abbiamo di lavoro. E queste idee possono portare non solo a elementi positivi, molto spesso vediamo il lavorare per queste aziende come qualcosa di altamente positivo, ma ho tentato anche di farvi vedere qual è il lato oscuro di tutto questo. Grazie per l'attenzione. Grazie mille a Gabriele Balbi che ci ha dato notizie veramente anche angoscianti da certi punti di vista. Dal materasso alla rete antisuicidio non è uno scherzo.